Ciao! Stavo guardando, aspettate che abbasso, stavo guardando quello che abbiamo realizzato sabato sera in piazza Santa Rosa qui a Sevigliano, una serata per la ripartenza della bella estate seviglianese, una serata dedicata a Ennio Morricone. Stavo guardando un po' insomma come era da sotto visto che io ero su a mettere la musica al terrazzino della torre e quindi adesso dai video che hanno fatto quella sera stavo guardando, intanto le persone che erano molto interessate sono rimaste fino alla fine e poi vedere anche un po' i commenti perché poi anche dai commenti alla fine uno si migliora o capisce che cosa deve cambiare o continuare a tenere, poi come potete vedere alle mie spalle ho ancora i vestiti da ritirare che ero indecisa su quali mettere, poi alla fine avevo scelto questo che ho addosso. Perché siamo insieme? È semplice perché è domani martedì e quindi come tutti i martedì ci ritroviamo insieme per fare un'altra nostra giornata dedicata alla musica, un'oretta, via insieme. Allora stavo pensando se magari trapporvi qualcosa di Morricone, raccontarvi qualcosa di lui anche perché ho scoperto tante cose tra l'altro non solo colonia sonora ma anche canzoni che non pensavo proprio fossero state scritte e arrangiate da loro, quindi magari ve le posso proporre qualcuna e poi naturalmente andremo ad ascoltare altri brani, quindi se volete come sempre io vi aspetto domani alle 9.30 puntuali. Mi raccomando e ancora una volta sarà musica anche per quest'estate. Ciao, buona serata!